bene ragazzi questa mattina consegneremo questa a6 davvero splendida al nostro cliente che è partito da lecce con l'aereo ed è venuta a prenderla senza neanche vederla l'ha comprata su carta ma attenzione ci sarà una bella sorpresa che lo attende all'interno della macchina da parte della fidanzata mi raccomando bellissima mamma mia siamo contenti contentissimi contentissimi e da vivo ancora più bella dal video delle descrizioni adesso accanto stupenda bellissima stavo soffrendo per la mia ex macchina che stava lì però già adesso sto cominciando a stare meglio perché è passata la nostalgia con questa diciamo un'ottima cura ottimo pronti vediamo regalare emozioni è una passione per tutto il resto c'è privacare grazie a tutti Grazie a tutti.